Hanno decisamente fatto centro ancora una volta i giochi olimpici per disabili organizzati con il motto lo sport per tutti. La seconda edizione dell'evento organizzato lo scorso 11 maggio all'agriturismo isolone di San Rocco al Porto è servito per raccogliere fondi a sostegno di sette realtà piacentine che si occupano di ragazzi con disabilità alle quali è stato donato un contributo complessivo di ben 16.800 euro suddiviso ed è voluto a no limits a Sofa il faro 23 asd special dream team orta dell'autismo a epo elo e piacenza in blu è stata veramente una grande sorpresa di grande partecipazione e di grande solidarietà da parte delle aziende che hanno dato un loro contributo quindi ogni anno speriamo di aumentare però è stata veramente bella la giornata dedicata nel pomeriggio ai ragazzi che si sono veramente divertiti con le varie cose che sono organizzate all'interno di questa bellissima struttura l'isolone dove alla sera è stato completato questa giornata con una cena di gala dove abbiamo raccolto anche lì una buona cifra attualmente raccogliere 16.800 euro in questo momento non è facile questa volta ci siamo riusciti grazie a questa disponibilità di tante persone